Nuova rubrica, sei prodotti, sei verdetti. Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, stanotte mi sono svegliata e ho pensato ma se facessi una cosa tipo come i miei prodotti, no? Sei giorni, sei outfit, sei prodotti, sei verdetti, sei pagelle, sei giudizi, poi mi piaceva verdetti, perché mi pare una cosa così un po' di sentenza. Carina. Allora, ho deciso di fare questa rubrica nuova, vediamo come va, se vi piace, se non vi piace, insomma poi vedo in base anche all'interazione, di dividere questi sei prodotti, sei verdetti, nei prodotti che praticamente sto adoperando, quindi non vedete nei prodotti finiti, cioè il prodotto finito è il giudizio finale dopo svariato tempo che lo utilizzo e lo dividerò nella skin care, nei prodotti corpo, prodotti capelli, prodotti casa e vediamo se mangiare, però mangiare sinceramente non è, cioè non lo so quanto possa interessare, cioè casomai me lo dite voi. Va bene, ma partiamo con sei prodotti, sei verdetti, per quanto riguarda la skin care. Allora, sapete che io, ve l'ho già detto, ho parecchie cose in uso e tante volte faccio delle scorte, ma perché escono edizioni limitate, ma perché comunque mi faccio, anch'io a mio modo, influenzare dalle mie colleghe che fanno video e quindi certe volte prendo tante cose, poi le lascio lì, le accantone, pian piano poi le tiro fuori. L'importante è non aprire le confezioni, sapete che ogni prodotto ha un power, quindi bisogna stare molto attento. Tanti mi dicono, ma tu utilizzi anche cose vecchie. Le cose vecchie, si ha sempre questa cosa qua, se non sono aperte, sono chiuse, il power parte dall'apertura, non parte mai dalla chiusura, a meno che non ci sia una data di scadenza riportata sulla confezione, che allora quella è un'altra roba ancora. Io solitamente cerco di, ho un quadernino dove cerco di mettere dentro tutte le cose che io ho, anche nelle dispense per quanto riguarda la casa, per evitare il più possibile spreco e per evitare appunto che i prodotti vadano a male. Qualora ho dei prodotti che sono a ridosso della scadenza, li regalo amiche, parenti, eccetera, eccetera. Bene, partiamo con i prodotti skin care. Allora, ultimamente, questo credo che sia a metà, sto utilizzando questo olio già estruccante con vitamina C che ho trovato ad attività della Cleanance. Allora, sapete che io adopero il trucco waterproof, sia per quanto riguarda le tinte labbra, sia per quanto riguarda il mascara, sia per quanto riguarda anche il fondotinta, certi fondotinta sono waterproof, per cui io devo avere uno stroccante a base oleosa. Struccante che può essere un detergente basoleosa, ma anche proprio l'olio. Allora, solitamente i miei prodotti preferiti sono l'olio di cocco, quello che con le temperature, chiaramente, se si alzano le temperature diventa liquido e se invece d'inverno diventa solido, il burro di karité, sono quelli che sono i due oli, diciamo, che adoperano maggiormente per quanto riguarda lo struccaggio. Questo mi sono imbattuta, perché io sono sempre alla ricerca di prodotti che sono olio, ma anche poi diventano schiumogeni. Ho provato diversi prodotti, questo è low cost, costa poco e sinceramente mi piace veramente tanto. Strucca bene, è ideale per il trucco waterproof, per cui io mi sto trovando bene. Un buon rapporto qualità-prezzo. Sono arrivata, secondo me, a più della metà, perché lo sto adoperando parecchio. Questo io, tutte le sere, quando rientro a casa, al pomeriggio, insomma, quando comunque rientro in casa, mi strucco e mi strucco con questo. Dopo essermi struccata, attualmente sto adoperando questa scoperta che presi tanto tempo fa all'MD, è di botanica, acqua micellare 3 in 1, deterge, illumina e strucca, viso, occhi e labbra. Beh ragazzi, questo è una roba meravigliosa. Io non so cosa ci sia dentro nel senso di rapporto di ingredienti, ma questo fa una schiuma meravigliosa, cioè voi lo pusciate, allora intanto mi metto l'olio, mi lavo bene con gli strucchetti, con i dischetti struccanti, io adopero i lavabili e ripasso l'acqua e poi passo questa. Una bella quantità, tanto da fare un bel po' di schiuma e mi rimuove l'untuosità appunto dell'olio struccante. Molto buona, sono arrivata qua, però volevo parlarvi perché questa l'olio è esumata adesso, ne ho una qua, così, che è sul lavandino per lavarmi la mattina e alla sera. Certe volte mi strucco in doccia e quindi ho un altro detergente sempre schiumogeno, degno di nota, che costa pochissimo, che vi dirò più in là. Però questo sicuramente è un ottimo prodotto. Ah, il verdetto da acquistare, chiaramente, vero? Ok, secondo me è da acquistare buon rapporto qualità prezzo, questa è una bomba prodotto da discount, cioè da un discount MD. Poi, e siamo al secondo prodotto, terzo prodotto che mi piace, però faccio fatica ad operarlo e a finirlo, sono a metà, vedete un po', si vede che sono a metà, va bene, questo è un booster, Age Defense, mi piace molto la composizione, perché 0,5% retinolo e 1% di vitamina E, sapete che il retinolo lo conosciamo tutti, ok, e anche la vitamina E, la vitamina E è uno dei più potenti antiossidanti che sono presenti in commercio e solitamente la vitamina E si trova sotto forma di tocoferolo, tutti i prodotti vea sono fatti con vitamina E e tocoferolo e quindi sono molto antiossidanti. allora questo a me piace molto però vado a periodi nel senso che ha una composizione ve la faccio vedere così, vedete, gialla, molto 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 oleosa quindi ne basta veramente poco sulla pelle questo io lo applico alla sera vedete è molto untuoso adesso forse no 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 a fondotinta vabbè però questo mi aiuta alla sera alla sera dopo una giornata importante dove ho tenuto il trucco tutto il giorno questo mi può aiutare è un prodotto estremamente low cost è di action e costa veramente un'inenzia però ha una struttura molto importante quindi d'estate non lo consiglio lo consiglio d'inverno se avete una pelle arida io ho una pelle arida ma non solo in faccia dappertutto corpo e tutto secca e incendia ok quindi questo non vi nascondo che nei periodi duri me lo spalmo anche sulle gambe lo ricompro sì questa è la seconda bozzetta secondo me che ho utilizzato da quando ho aperto action è ingombrante sì non a tutti piace questo io non lo consiglio a tutti lo consiglio a chi ha una pelle molto arida e il retinolo io lo adopero questo quando non adopero la tretinoina insomma la tretinoina non la adopero sempre io sono onesta dovrei essere più costante e invece faccio un po' fatica questo invece a me piace bene quindi insomma vi dico il pro e il contro se avete una pelle cioè le pelle giovani ragazze le pelle giovani anche no cioè io vi do di quelle robe cioè che fanno di quelle skin care certe ragazze che boh vabbè non importa ognuno fa quello che vuole definitiva poi ho riesumato come vi dicevo una combo e quindi arriviamo a 5 che sono questi due prodotti che sono di Sien Ocean Care e i mousse with ialluronic booster questo faceva parte di un set non so se c'era anche qualcosa d'altro però io avevo preso solo queste cose qua allora questo booster all'acido ialluronico allora sostanzialmente funziona così questo io lo metto la sera di giorno non lo metto alla mattina mi detergo il viso passo prima il contorno occhi e poi metto questo che ha la vitamina C questo è forma sembra pasta dentifricia di Harry Potter ok però dopo si tramuta in crema però è una crema che si assorbe vedete molto rapidamente ok non lascia scia bianca ha un buonissimo profumo ma a parte questo mi dà una sorta di idratazione io dopo chiaramente metto anche la protezione che non ne parlo qua perché se no se i prodotti erano pochi però questo lo metto tutte le mattine prima di andare a lavorare sotto la protezione sotto il fondotinta ha una texture leggera però idrata cioè quello che mi serve diciamo per partire durante la giornata quindi un ottimo prodotto 30 ml sono quasi alla fine anche qua lo vedrete pian piano dei prodotti terminati e queste queste erano secondo me delle bellissime 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 edizioni limitate di Sieno un po' meno mi piace il contorno occhi ecco io col contorno occhi ho sempre una certa difficoltà non so perché ma è un prodotto che è un po' snobbo cioè io preferisco mettermi i patch sotto preparare l'occhio prima e tutto quanto il contorno occhi si lo metto ma preferisco spalmarmi i sieri insomma ve l'ho già detto anche le creme io sinceramente una volta utilizzavo molto di più le creme dai 30 fino ai 36 anni davo so de creme stucco per muri eccetera adesso più la roba è leggera meglio è deve essere una texture leggera ma deve idratare deve portare dentro l'acqua ok perfetto questo è un contorno occhi che anche questo ragazzi sto portando a termine molto carino molto leggero però fa il suo a me sinceramente queste cose qua piacciono non mi piacciono quelle robe abbastanza pacchiane cioè questo in confronto questo è mamma mia olio olio puro infatti alla sera anche faccio un impacco io ho dei patch in silicone che comunque farò sei prodotti sei verdetti anche nei tools dove io metto sotto questo e poi metto questi patch in silicone appoggiati e li tengo per un'ora due ore tre ore mentre faccio le mie robe tanto ok comunque questa qua anche questa un ottimo prodotto io so che vi faccio vedere delle cose che adesso attualmente non ci sono però è anche giusto dire cosa sto adoperando voglio dire cioè non è che per forza devo far vedere sempre robe nuove per comprare robe nuove cioè io adopero anche rimasugli di magazzino anche per non sprecare voglio dire ecco perché comunque li ho pagati bisogna avere rispetto anche dei soldi che si spendono bene ultimo prodotto usato anche nell'ultima settimana è l'overnight lip mask alla vaniglia so che questo ne hanno fatto uno anche alla fragola peccato io ho beccato quello la vaniglia devo essere sincera mi piace molto non ha nulla da invidiare nelle maschere labbra idra bomb bomb che ho avuto che ho avuto e che ho perché devo ancora terminare perché faccio fatica di over skin di vera labba ai tempi d'oro quando ancora aveva il logo con l'estetista fatta cinica fatta diversamente quelli sono uno smandroppone questo è veramente di una consistenza giusta vediamo se me la riesco a far vedere ok burrosa ok fa un bel film protettivo idro anche lipidico no cioè grasso la do alla sera ce l'ho sul comodino alla sera prima di dormire alla mattina ho delle labbra spettacolari da tinta perfetto bene questi sono i miei sei prodotti sei verdetti spero che vi possa piacere come format come cosa io mi sveglio di notte penso vago e sprolico e niente spero che il video ti sia piaciuto metti un like se avete dei prodotti da consigliarmi skin care scrivete sotto che io accetto tutti i commenti tutte le cose più possibili immaginabili dal naturale al chimico a quello che insomma io non guardo tanto l'inci a me guardo il risultato che ha sulla mia pelle e niente spero che il video ti sia piaciuto e se vuoi far dociacole la mattina presto che l'ora lì sono un po' più attiva le perle di Daphne e se no attiva la campanella metti un like e iscriviti a sto benedetto canale dai 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 che è che siamo che siamo a bomba ciao